una presentazione collant oro blu gioco sottile dopo tante tantissime richieste da parte vostra manuela tanto amata tanto desiderata e tanto attesa da tutte voi si ripropone due volte la settimana lunedì e venerdì alle 20 e 30 manuela questa è la vera amicizia e rete 4 ne sa qualcosa non c'è più caffè e che cosa dico mio marito non c'è più caffè come faccio con gli ospiti è sempre la stessa storia restano senza caffè poi che fanno hai capito pacco doppio qualità oro la pazza mai più senza caffè partecipa all'estrazione di migliaia di servizi carmencita serie oro spedisci in una busta solo 10 stelle o punti che trovi sul retro dei pacchi doppi e quadrupli del tuo caffè la pazza ricorda più buste spedisci più possibilità hai di vincere ols mentolictus è la caramella che sprigiona i vapori balsamici ols mentolictus originale extraforte gran fresca e oggi gran liquirizia un sospiro di sollievo le bolle che vedete non le ha messe l'uomo ma la natura ferrarelle effervescenti naturali si nasce la tavola grazie di chieri mamma allora ho scoperto che sono bravissima a fare risotto risotto knot bravissima a fare il risotto cartapaglia foxy è il rotolo da cucina che resiste di più e assorbe persino un'intera bottiglia di vino cartapaglia foxy la forza naturale della paglia buongiorno buongiorno nonno grazie prova con questi come mi trovi bruttino ma simpatico fatte con la panna ah leggo anche la panna adesso al mattino scegli le macine del mulino bianco semplici gustose fatte con la panna fresca per una sana prima colazione mangia sano torna la natura con mulino bianco barilla camomilla sogni d'oro dalla natura il fiore della serenità